Ciao, mi presento, sono Ivan Tonon, Country Manager per Netgear Italia e siamo qui all'IFA per presentare le novità da parte nostra, da parte di Netgear. Conoscete Netgear? Netgear è un'azienda americana conosciuta nell'ambito del networking, ma qui all'IFA di quest'anno presentiamo una linea di prodotti per noi nuova, completamente nuova, che si chiama Mural. Mural che cos'è? Mural è un quadro digitale che permette di avere a portata di mano a casa tua più di 30.000 tra opere d'arte e immagini, fotografie, che arrivano da tutto il mondo. Come funziona Mural? Allora, Mural innanzitutto è un quadro con uno schermo, con una particolare brevetto che si chiama True Art Technology, che ha l'obiettivo di riprodurre l'opera d'arte nella maniera più simile all'originale, nella maniera più veritiera possibile. La tecnologia a funzione è una combinazione tra hardware e software, in cui ci sono dei sensori montati sulla cornice che continuano a monitorare le situazioni e le condizioni luminose della stanza in cui posizioni il quadro, per darti un'immagine, come dicevo, sempre più simile possibile al quadro originale esposto nel museo, magari dall'altra parte del mondo. Il controllo della cornice, quindi come puoi andare a sfogliare la tua libreria e passare da un artista all'altro, funziona o con un sensore che si trova sul, diciamo, lato basso della cornice, sia che sia utilizzata in posizione verticale, sia che sia utilizzata in posizione orizzontale e ti permette appunto di andare, come vedete, a leggere la descrizione dell'opera d'arte oppure ad accedere al menu e cambiare, vedere appunto tutte le librerie e spostarti da un tipo di artista ad un altro, ad esempio andiamo all'interno di questa collezione che è da National Geographic e quindi di esplorare quella parte di questa gigantesca libreria di opere d'arte che abbiamo che più ti interessa. Come puoi accedere a questa libreria? Mural, questo quadro digitale, è collegato in wifi al router di casa tua e conseguentemente al servizio cloud che noi abbiamo, che è disponibile. Quindi attraverso l'app del tuo cellulare vai a scegliere, diciamo, quelle che sono i contenuti che più ti interessano, ovviamente contenuti che sono categorizzati per museo, per artista, per tipologia di arte. E poi quella particolare libreria viene scaricata e viene appunto resa disponibile all'interno della memoria presente nella tua cornice. Mural è disponibile in due versioni, la versione da 21 pollici e la versione da 27 pollici, con cornici, come vedete, che possono essere laccate oppure in legno massiccio. Cornici che tra l'altro sono intercambiabili, che quindi potranno essere poi sostituite. Se per esempio a casa vostra andate a cambiare l'aredamento, non dovete acquistare un nuovo quadro, ma potete semplicemente sostituire la cornice. Oltre ai contenuti che noi rendiamo disponibili attraverso il nostro servizio cloud, su Mural è anche possibile caricare i tuoi contenuti. Se sei un appassionato di fotografia o vuoi semplicemente vedere le foto delle tue vacanze, puoi caricare appunto i tuoi contenuti attraverso o una comoda, come vedete, presa USB, c'è anche una slot per una SD card, oppure anche attraverso l'app installata sul tuo telefono, puoi direttamente andare a caricare le tue foto utilizzando il servizio cloud. Quindi non solamente contenuti che arrivano, diciamo, da tutto il mondo, dai musei di tutto il mondo, ma anche i tuoi contenuti possono essere poi visualizzati attraverso questo quadro digitale chiamato Mural. Questo prodotto sarà disponibile in Italia da subito, praticamente da fine settembre, con un prezzo suggerito che parte da circa 649 euro. Questo è quanto per quanto riguarda Mural, un saluto. Ciao!